Un libro tira l'altro di Salvatore Carruba Buonasera cari amiche e cari amici Abbiamo ascoltato qualche nota della celebre canzone di Edoardo Vianello del 1963 una canzone che oggi incorrerebbe negli strali del politicamente corretto che ha messo al bando una delle parole che abbiamo ascoltato quella che comincia con una N e contiene una G al posto della quale propriamente oggi dovremmo dire afrodiscendenti La questione non è per nulla folcloristica ci spiega Raffaele Alberto Ventura analista del groupe d'études geopolitiques di Parigi autore per la rivista Esprit e per altre testate nel libro La regola del gioco Comunicare senza fare danni è pubblicato da Enaudi 220 pagine e 15 euro Comunicare in un mondo sempre più complicato è diventato rischioso e avventuroso La leggerezza nel parlare e nel comunicare è un ricordo del passato e dobbiamo abituarci o rassegnarci al fatto che un errore comunicativo uno strafalciono, una battuta si possano trasformare in autentiche catastrofi informative come ben sanno molte aziende per esempio tra volte magari da uno spot sbagliate perché comunicare per l'autore significa fare cose con le parole e quindi l'impatto, la conseguenza che hanno le nostre parole possono essere veramente gravi Ventura esamina questo fenomeno che ormai ci riguarda tutti perché una parola fuori posto può fare rapidamente il giro del mondo mettere in gioco la nostra reputazione e su questo prosperano naturalmente le correnti del politicamente corretto della cultura woke, della cancel culture Ventura ce ne dà uno sguardo critico ma non necessariamente apocalittico ritenendo che un po' più di rispetto per gli altri non faccia male anzi lui parla di carità interpretativa ci serve fare tutti scrive un passo indietro essere più indulgenti con gli altri e meno con se stessi pensare alle conseguenze delle cose che facciamo ma non dimenticare le cause di quelle che fanno gli altri in una società multiculturale è necessario accettare che esistano diverse visioni del mondo e codici morali senza che queste differenze debbano essere continuamente oggetto di polarizzazione di conflitto insomma conclude soltanto una tolleranza radicale ci salverà e in questo naturalmente e Ventura non lo trascura c'è un rischio per la libertà d'espressione che l'autore vede come lo scarto tra quello che viene tollerato in certi contesti comunicativi è quello che viene sanzionato in altri e allora è utile la conclusione del libro con un decalogo per non sbagliare e un dettagliato glossario per orizzontarci in questo mondo sempre più complesso della comunicazione anche personale e su questo sentiamo adesso l'autore buonasera Raffaele Alberto Ventura buonasera Raffaele Alberto Ventura partiamo dal titolo comunicare diventa sempre più complicato scrive nel suo libro anzi ci vuole addirittura un manuale ormai per vivere tanto la vita si è fatta complicata ecco quindi la necessità della regola del gioco questo è il titolo del suo libro una regola terribilmente seria ma qual è questa regola d'oro? ma forse la vera regola è che di fatto non esistono delle regole cioè le regole cambiano continuamente soprattutto oggi perché i codici culturali le abitudini le tecnologie cambiano e quindi cambiano le regole questa è un po' un'anticipazione sulla conclusione del libro perché alla fine quello dico però prima cerco di elencare tutte queste trasformazioni e cercare di trasmettere delle diciamo abitudini che ci permettono in qualche modo di navigare nel mondo del rischio comunicativo che è dappertutto che aumenta che è pervasivo minimizzando per quanto possibile i danni che questo rischio comunicativo può produrre sugli altri offendendo o creando delle dinamiche spiacevoli e poi su noi stessi che di quelle offese e di quei danni comunicativi poi siamo i responsabili e spesso subiamo delle conseguenze e infatti lei ci spiega che il linguaggio fa cose le parole servono a cambiare la realtà quanto siamo consapevoli di questa regola di questa verità e questo concetto come si intreccia con quello che ha avuto successo in questi ultimi anni della post verità in cui appunto non conta più che le cose siano vere ma che siano dette e che siano diffuse ma io credo che nel corso del novecento ancora di più nel dopoguerra col boom economico abbiamo iniziato a dimenticare forse perché vivevamo abbiamo vissuto a lungo in una società pacificata e uniforme culturalmente abbiamo iniziato a dimenticare che appunto quando si comunica si fanno cose che non è soltanto una battuta una provocazione una vignetta qualcosa che come un dipinto in un museo se ne sta lì isolato dal mondo ma sono elementi del mondo cose del mondo che provocano conseguenze che noi usiamo per provocare conseguenze noi comunichiamo per ottenere dei risultati per promettere per sedurre per convincere e talvolta questa cosa finisce male ecco questa cosa l'avevamo io credo dimenticata avevamo dimenticato che il linguaggio è pragmatico come dicono i filosofi del linguaggio cioè qualcosa che modifica il mondo ci eravamo rifugiati in un'idea di linguaggio molto disincarnata molto astratta molto artistica in un certo senso ci eravamo abituati alle provocazioni come forma d'arte e a tutto questo e oggi cadiamo un po' dalle nuvole scopriamo un mondo nuovo scopriamo un mondo nel quale una vignetta può provocare delle rivoluzioni una battuta può provocare un licenziamento scopriamo un mondo nel quale le minoranze sono tutte portatrici di rivendicazioni e di domande forti di riconoscimento e dobbiamo abituarci a questo nuovo mondo che è anche effettivamente diciamo il mondo della post verità cioè un mondo in cui il linguaggio viene utilizzato in maniera da alcuni molto molto leggera dimenticandosi che appunto questa leggerezza non corrisponde alla vocazione più profonda del linguaggio che è fare cose sul mondo e questo è complicato questa trasformazione dal fatto che ormai la preda decisiva nel mondo della comunicazione nell'esperienza della comunicazione è conquistare l'attenzione per motivare il nostro contraddittore all'engagement questo vale solo per le aziende perché lei ne parla molto questo proposito per le aziende o vale anche nella vita privata vale per ciascun cittadino che comunica beh il problema è che oggi appunto si confonde quasi cos'è un'azienda cos'è un cittadino privato diciamo nel mondo dell'influencing in cui siamo tutti un po' dei brand chi più chi meno ma soprattutto magari chi evolve in un ambiente professionale ha bisogno di farsi conoscere di farsi vedere di valorizzarsi per il lavoro o per gli affetti per le amicizie per tante motivazioni ci troviamo in fin dei conti tutti ogni individuo a ragionare un po' come aziende e le aziende da parte loro magari a ragionare come individui perché magari sui social network andranno a comunicare in una maniera un pochino più amichevole più umana o fintamente umana e quindi c'è una una confusione tra queste due dimensioni e quindi ognuno di noi che sia appunto una persona comune o il responsabile comunicazione di una grande azienda si deve porre il problema fondamentale che è quello di in che misura deve insistere sulla ricerca dell'attenzione massima cioè rendersi visibile rendersi sempre presente provocare per esserci e per essere poi seguito eventualmente per vendere i suoi prodotti e quanto invece gli conviene consolidare la sua reputazione magari con maggiori precauzioni magari provocando meno ma insistendo sulla propria reputazione diciamo sul mantenere un certo riservo sull'evitare i danni comunicativi e tutti quanti siamo di fronte questa scelta tragica in che misura vogliamo fare qualcosa che ci faccia risaltare ma che rischia di metterci in pericolo che rischia di esporci all'udibrio oppure alle critiche oppure agli attacchi agli shitstorm le tempeste di commenti offensivi o bullismo e in che misura invece ci conviene fare l'esatto contrario profilo basso non comunicare troppo e evitare al massimo di avere dei danni comunicativi dipende dai momenti della propria carriera dipende dalla propria sensibilità dal proprio carattere ma credo che oggi ogni marca che si tratti di una vera marca o di un individuo reso marca diciamo come l'individuo contemporaneo si debba porre continuamente questa domanda e qui lei solleva un paradosso altrettanto tragico per usare la sua espressione perché scrive la cito all'aumento del peso dell'opinione pubblica non corrisponde oggi un eguale consolidamento della democrazia questo è molto preoccupante questo scenario loro hanno ragione gli studiosi che appunto sentono minacciata la democrazia dalle nuove forme di comunicazione io credo ci siano sicuramente delle criticità ovviamente come dice benissimo lei ci sono dibattiti politologi sociologi che da quasi mezzo secolo ormai riflettono sulla crisi della democrazia e che da vent'anni riflettono su come i social media abbiano avuto un impatto credo che queste criticità debbano essere affrontate perché vediamo assistiamo a dei fenomeni di viralità dei fenomeni di bullismo lo dicevamo prima quello che gli americani chiamano harassment fenomeni collettivi che non sono più gestibili fenomeni di malessere sociale profondo causati dalla competizione permanente chi è più bello chi è più bravo chi è più presente e poi appunto una circolazione dell'informazione che modifica diciamo le gerarchie del sapere e della domanda politica anche che è un problema che va oltre poi quello della fake news di cui si è parlato a lungo nell'ultimo decennio perché poi distinguere tra vero e falso ce ne accorgiamo sempre di più è diventata anche quella una battaglia politica qualcosa in qualche modo di soggettivo il vero problema però è in che modo attraverso i media di cui disponiamo siamo in grado di aggregare delle domande politiche metterci d'accordo attorno a certe cose e a quanto pare la promessa dei social media che era quella di offrirci un mondo profondamente democratico in cui finalmente saremmo riusciti a esprimere i bisogni di tutta la popolazione si è rovesciata o in una specie di incubo in qualche modo dobbiamo ripararlo questo dobbiamo ripararlo come una macchina che ha dei suoi difetti dei suoi problemi e cercare di strutturare in modo migliore questa macchina per poi sfruttarne meglio le potenzialità che comunque ci sono ecco ripararla come questa macchina perché lei per esempio verso la fine del libro sottolinea quando parla anche della cancel culture del fenomeno walk eccetera questo fenomeno di iperpoliticizzazione che accompagna questa trasformazione del modo di comunicare un'iperpoliticizzazione che certamente rischia di rendere una società sempre più autocensoria conformista qual è il suo parere? ma io credo che assistiamo effettivamente a una ripoliticizzazione iperpoliticizzazione di cose che a lungo non avevamo percepito come politiche rivendicazioni che venivano ignorate gruppi sia etnici o religiosi ma anche gruppi penso a persone che magari avevano una patologia particolare che era stata a lungo ignorata e che finalmente attraverso i social media riescono a esprimersi conoscersi rivendicare il loro malessere esprimere una domanda di riconoscimento e quindi politicizzare qualcosa che prima non era politicizzato e questo ovviamente è come dire positivo nell'assoluto o comunque a un primo livello a un secondo livello il problema è in che misura la società è in grado di assorbire tutta questa politicizzazione in che misura una società può gestire la politicizzazione di tutti i problemi che in essa ci sono e in che modo e quindi questo sicuramente nella pratica ha un effetto sul modo in cui noi stiamo sui social sulle scelte che facciamo su come per esempio decidiamo di parlare di qualche cosa forse in un'altra epoca anche solo dieci anni fa comunicavamo parlavamo di certi temi senza farci troppo caso ma pensiamo per esempio a come nel nostro linguaggio nell'italiano nella lingua naturale nella lingua comune ci possono essere delle espressioni che fanno riferimento a qualche malattia a qualche condizione psicologica a qualche episodio della storia coloniale italiana insomma per fare degli esempi e che sono delle cose che si usavano con leggerezza e che oggi però in un modo o nell'altro finiscono per raggiungere delle persone che possono essere coinvolte da quella malattia da quella condizione da quell'episodio della storia coloniale e quindi inevitabilmente modifica il rapporto che noi abbiamo con la comunicazione noi possiamo ignorarlo possiamo far finta di niente possiamo dire che non ci importa e che non siamo razzisti non siamo abilisti non siamo sessisti però di fatto quello che noi comunichiamo quell'effetto ce l'avrà e se quell'effetto ce l'avrà concretamente noi dobbiamo come dire esserne consapevoli altrimenti non stiamo comunicando meglio e più profondamente non stiamo vivendo diciamo in quanto cittadini in quanto persone nel modo migliore in una società che queste effigenze ce le pone il problema di tutto questo è che è incredibilmente costoso diciamo emotivamente è complicato richiede competenze e questo è come dire il problema questa è la sfida che aspetta io credo l'individuo della società del ventunesimo secolo ecco grazie Raffaele Alberto Ventura autore della regola del gioco buona serata arrivederci grazie un libro tira l'altro ben ritrovati con Salvatore Carrubba il tema che abbiamo sollevato quello della cancel culture è diventato un'ossessione spesso che inquina sempre più pesantemente il dibattito pubblico soprattutto negli Stati Uniti ma qualche eco sta arrivando ovviamente anche in Italia e quindi dovrebbe renderci questo ancora più attenti e più sensibili su questo tema su questo fenomeno e allora è utile il libro di un esperto che ha dato vita anche una newsletter culture wars proprio per esaminare l'impatto che il tema può avere sulla nostra condizione il libro è quello di Davide Piacenza la correzione del mondo cancel culture politicamente corretto e nuovi fantasmi della società frammentata pubblicato da Inaudi 314 pagine 16,50 euro anche Piacenza il cui libro è precedente a quello di Ventura parte dalla complicazione anzi dalla frammentazione come la chiama egli stesso del mondo che cerca più la guerra che non il confronto col risultato che così ci descrive fino a relativamente pochi anni fa la divisione dello spettro politico si sarebbe potuta dire più o meno netta da una parte c'era chi era di destra e aveva convinzioni personali che mettevano al centro un'idea di tradizione appartenenza nazionale e famiglia più o meno moderata dall'altra la sinistra ospitava a grosso modo coloro che volevano maggiori tutele per i lavoratori più assistenza per le fasce più deboli maggiori diritti e inclusione per le minoranze e nuova voce in capitolo per le vittime di discriminazione oggi invece gli insiemi si sono moltiplicati e i conflitti sono esplosi al loro interno sinistra contro destra è diventato solo un tassello di un puzzle più grande dove le rivendicazioni di parti della sinistra sono in competizione con quelle di altra sinistra e i proclami di certa destra si trovano direttamente in conflitto con le convinzioni di un sottobosco di gruppi conservatori la guerra di trincea a cui eravamo abituati si è tramutata all'improvviso in una rissa totale e confusa in cui la tribalizzazione del dibattito produce identificazioni disegnate sull'opposizione al gruppo più simile i social justice warriors dell'attivismo per i diritti civili contro liberali e socialdemocratici e il loro metodo politico considerato intriso di discriminazione le femministe della terza ondata contro il transfemminismo a mezzo Instagram la destra complottista radicalizzata online contro i conservatori libertari vecchio stampo e nel mezzo un nubifraggio di personalizzazioni delle istante dita puntate e reciproci rispetti dicevo prima dell'epicentro di questa rivoluzione gli Stati Uniti o involuzione a secondi punti di vista e sugli Stati Uniti Piacenza si sofferma in particolare esaminando anche l'impatto politico di questa situazione che ha fatto perdere di vista il significato stesso dello stare dell'essere del vivere in società perciò ci spiega il significato di cancel culture del politicamente corretto le cui manifestazioni spesso riporta le sue effettive e modeste dimensioni che però fanno da esca a polemiche feroci per la politicizzazione estremizzata che esse favoriscono risultato di questo escursus di piacenza completo e spesso sorprendente la constatazione amara che ci nutriamo solo di certezze e che abbiamo perso enuncio i suoi timori il gusto di dubitare il senso delle sfumature il piacere di cambiare idea l'originalità del pensiero la capacità di collocare i fatti in una prospettiva storica e infine l'essere buoni per davvero la comunicazione di cui abbiamo parlato con Raffaele Alberto Ventura e i fenomeni descritti da Davide Piacenza alimentano l'informazione anch'essa in profonda trasformazione spesso in drammatica crisi anche qualitativa i tempi gloriosi dell'informazione in Italia sono ripercorsi da Giancarlo Tartaglia segretario generale della fondazione sul giornalismo Paolo Murialdi ex direttore della federazione nazionale della stampa e docente storico del giornalismo in storia illustrata del giornalismo italiano pubblicato da Pacini editori 208 pagine illustrate appunto 20 euro una storia questa che ci racconta Tartaglia che è una storia anche dell'Italia repubblicana dato che si parte dal ritorno nel nostro paese alla democrazia dopo il fascismo Tartaglia parte proprio dal ritorno alla libertà di stampa per esaminare poi i periodi della ricostruzione del centro-sinistra del terrorismo del passaggio alla seconda repubblica dando spazio alle immagini che raccontano visivamente lo scorrere delle vicende politiche e sociali che hanno segnato l'evoluzione del nostro paese fino alla situazione attuale una situazione che naturalmente Tartaglia non trascure di cui sottolinea l'importanza della crisi che la sta attraversando una crisi che riguarda anche la professione giornalistica che qui viene illustrata dai grandi protagonisti ai quali il libro da naturalmente particolare spazio facendoci riscoprire in molti casi firme leggendarie che ci hanno aiutato a capire e a fare l'Italia che diventava moderno oggi il loro il nostro mestiere pesantemente minacciato come scrive in conclusione lo stesso Tartaglia agli interessati alle tendenze in atto nel mondo della informazione segnalo il recente rapporto del census sulla comunicazione giunto alla diciannovesima edizione è intitolato quest'anno il vero e il falso è curato da Massimiliano Valeri con Settimio Marcelli Monia Conti Nibali Claudia Donati e Vittorio Colette pubblicato da Franco Angeli 180 pagine 25 euro come ogni anno troviamo qui una miniera di dati sull'informazione e sulle tendenze per quanto riguarda i libri i giornali i social la televisione la radio e proprio i social oltre che i recenti ulteriori progressi dell'intelligenza artificiale giustificano il titolo il vero e il falso nella sovrabbondanza informativa e nell'anarchia mediatica attuale scrivono infatti gli autori risulta sempre più difficile orientarsi e riconoscere le finalità più o meno occulte e mascherate degli atti comunicativi distinguere tra l'informazione accurata la propaganda interessata la persuasione politica gli scopi commerciali e altri intenti manipolatori così il rapporto per questo il census non esclude affatto che prima o poi il ruolo della mediazione giornalistica possa tornare a essere centrale e riconosciuta anche se i comportamenti a riguardo delle giovani generazioni aggiunge il census non sembrano andare in questa direzione nonostante qualche segno positivo che si è manifestato nell'ultimo anno e quest'anno si parla anche di intelligenza artificiale una curiosità l'82% degli italiani emerge dal rapporto è favorevole a porre dei limiti all'applicazione dell'intelligenza artificiale non solo si parla anche di cancel culture ed emerge una sensibilità degli italiani perché i media siano rispettosi verso ogni categoria ma a livello personale il 69,3% degli italiani si infastidisce del fatto che ci sia sempre qualcuno che si offende se scappa qualche espressione che l'interlocutore considera inopportuno e il 57,7% quindi una percentuale consistente oltre la maggioranza o saluta degli italiani intravede i pericoli di conformismo che possono derivare dal successo di questa tendenza e a questo punto il confettino abbiamo parlato di comunicazione di giornali anche di libri e allora vi segnalo un successo francese cronache della foresta le memorie perdute di Michael Brun Arnaud noto come Matt Renard e libraio a Parigi illustrato da Sanol che si ispira nei suoi disegni al maestro Hayao Miyazaki il libro è pubblicato a terre di mezzo 238 pagine 16 euro tradotto da Gioia Sartori ed è un'altra puntata di una fortunata serie nel quale si parla qui di una libreria ospitata nell'incavo di una quercia con una unica copia di ogni libro scritto degli abitanti del bosco questa libreria è governata da una volpe Archibald che dovrà aiutare la talpa Ferdinand a recuperare il libro che lo riguarda e che il libraio ha appena perduto i due si metteranno in cerca dell'acquirente partendo da vecchie fotografie in un'avventura che mischia sogni ricordi e realtà e con questo ringrazio Luca Cremonese redazione Paolo Corleone regia vi ricordo il nostro indirizzo di posto elettronico un libro a chioccio la224.it e il nostro sito www.la224.it dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni vi auguro buona serata e vi do appuntamento a domenica prossima a domenica prossima a depan Nancy a domenica punti a domenica torre e tioni assituto a domenica